buongiorno amici qua da fabriano si sta scatenando l'uregano vento acqua ci voleva un po d'acqua però fa anche un po freschino buona domenica a tutti amici qua da fabriano un saluto da giuseppe se vi piace questo video mettete mi piace ciao ciao iscrivetevi al canale su youtube ciao 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 ciao